Maurizio Acerbo, di ritorno dal Consiglio regionale, come si chiude questa legislatura e come dovrà essere la nuova? Si chiude con la mancanza del numero legale, che poi è la cifra di questa campagna elettorale, una campagna elettorale in cui si confrontano due centrodestra, ambedue con candidati presidenti indagati e imputati, e un abbassamento del livello morale già basso delle due coalizioni che dovrebbero esprimere la propensione al governo. Abbiamo da un lato un centrodestra che in cinque anni e mezzo in gestione ha fallito in tutti i campi, però nonostante questa gestione fallimentare, metà dei suoi campioni sono stati arruolati da D'Alfonso per fare un altro centrodestra. Manca proprio il numero legale e quello che cerchiamo di portare noi dentro la campagna elettorale è una posizione che rappresenti la maggioranza degli abruzzesi, cioè le persone oneste. Acerbo, quali i suoi impegni per questa città e per questo territorio? Per questa città io direi che se la politica abruzzese non fosse folle, Sulbona sarebbe da qualche decennio il capoluogo dell'Abruzzo. Penso che rappresenti il cuore storico della nostra regione e purtroppo ha espresso nelle due principali coalizioni una classe dirigente di un livello talmente basso che, diciamo come le suole delle mie scarpe, sia a livello parlamentare, basti pensare alla rappresentanza di Forza Italia, che è ad altri livelli istituzionali. Però in questa città c'è una società civile attiva, movimenti come quello che si è espresso nel contrasto, nel megaprogetto Sdam, o tutto il fermento culturale che anima la città, che tra l'altro era molto cara al mio amico e compagno Mario Monicelli, che mi raccontava sempre battute su quando era stata Sulmona. E io voglio dire, qui c'è un altro Abruzzo che io stimo molto e che spero concorra con tutti noi a costruire un'alternativa a una gestione completamente fallimentare. Il nostro programma è già costituito da una vita di battaglie per provare a cambiare questa regione. Noi non vogliamo diventare una regione del terzo mondo, fatta di inceneritori, di scariche, metanodotti, trivellazioni, vogliamo la regione verde e vogliamo creare lavoro al partire dalla valorizzazione della regione verde. Concludo dicendo che proprio noi siamo stati quelli che hanno scoperchiato lo scandalo dell'erogazione dell'acqua inquinata di Bussi. Quello che vogliamo fare adesso è trasformare questa grande calamità creata dall'uomo, cioè questa mega discarica tossica, in una grande occasione per creare una filiera di lavoro buono in Abruzzo, legato alla bonifica. Un'ultima considerazione, oggi è 9 maggio, è l'anniversario dell'assassidio del compagno Peppino Impastato. Noi siamo eredi di quella storia, non potevamo essere alleati con degli indagati. Quando sono andato, insomma, gli stati erano gli avversari.